Il Medaroth è un robot costruito grazie a tecniche molto avanzate. Il Medaroth è un'intelligenza artificiale che viene installata in una struttura corporea chiamata Timpet. E grazie a una grande varietà di parti modulari, questi robot hanno funzioni illimitate. Go! Ora potrai diventare il numero uno, come il tuo robot dovrai vincere la robobattore dei Medaroth. Non ti fermerai nel tuo cuore ciecari, non ti fermerai, al tuo fianco avrai. Che riga è il Medaroth, ogni giorno è un giorno nuovo con te. Go! del Rio, go! del Rio, combatti contro la robobotente. Vai del Rio, vai del Rio, quale sarà la vera identità di retorno. Go! del Rio, go! del Rio, mi prendi tutti i Medaroth. Vai del Rio, vai del Rio, quale sarà la vera identità di retorno.